Io vengo da una famiglia dove l'equitazione è sempre stata una componente molto importante. Sicuramente mio padre è stato un grande stimatore dei cavalli, dell'equitazione e soprattutto è stato giudice, è arrivato anche a essere giudice nazionale e credo anche internazionale, ha avuto parecchi riconoscimenti. Mio fratello è un mio fratello secondo, mio fratello è un chirurgo veterinario molto noto in Italia e non solo, l'altro mio fratello, il piccolino come lo chiamiamo noi in famiglia, è stato Cavaliere del Carroccio. Io stesso pur non avendo seguito il mondo del paglio direttamente, ma da giovane sono stato anche io inserito nell'ambito dell'equitazione. Pensi che mio padre non mi regalò la macchina a 18 anni, ma mi regalò un cavallo, una cavalla, Chantal, una bellissima cavalla che ricordo ancora con un bel ricordo. L'hai trascorso un anno dalla sua elezione a sindaco, come è stato questo anno? Beh, un anno, io dico sempre che se questo servizio, e uso la parola non a caso, se questo servizio che un cittadino lo fa veramente con il cuore, con la passione, come credo di farlo io, perché non ci sarebbe altro motivo che mi potrebbe spingere ad assumermi delle responsabilità così rilevanti in un momento così difficile, beh, io credo che sia una bellissima esperienza. Io sono, malgrado tutte le difficoltà che ho incontrato, anche le difficoltà chiaramente naturali di uno che il sindaco non l'ha mai fatto, che ha sempre fatto politica, ma a livello prepolitico, culturale se vogliamo, beh, insomma, comunque è una bellissima esperienza, è un grande onore, è un modo che a me piace definire in questo, con queste parole, è un modo per restituire alla propria città Tutto ciò che è di bello e di grande la tua città ti ha donato negli anni, io sono stato, sono ancora un piccolo imprenditore, ho ricevuto tantissimo da questa città, ci vivo da sempre, sono nato in questa città e quindi tutto, restituire tutto ciò che posso dare alla mia città è per me estremamente gratificante. Beh, io credo di aver dato qualcosa al paglio e di aver ricevuto altrettanto dal paglio, ho dato qualcosa, nel senso che io provengo dal, dico ho dato senza voler insegnare a nessuno, sia chiaro, ma credo di aver contribuito nel mondo del paglio, aver dato, come dire, aver rivalutato o anche stimolato ulteriormente il ruolo sociale che le contrade svolgono all'interno della città e quindi, e quindi, diciamo, non limitarsi solo alla pura competizione tra contrade bellissima, entusiasmante sotto certi aspetti. Quindi io credo di aver portato un po', io dico sempre, alle contrade siete una componente importante di questa città e lo siete perché siete un elemento di socializzazione, siete punti d'incontro, siete punti di aggregazione. In momenti come questi, talmente difficili, dove tutto tende a, come dire, a sfumare, a non essere, a non fare coesione nell'interesse generale, credo che questo sia un elemento importante che le contrade possono svolgere. Ecco, io ho sottolineato questo aspetto e sono stato ascoltato. Dall'altra parte, io credo di aver ricevuto dal mondo del paglio tutta una serie di esperienze che non avevo e quindi, come dire, tutta quella ricchezza che il paglio porta con sé, non credo che sia inutile neanche sottolinearle, ma anche instaurato un ottimo rapporto, dico, in alcuni casi buono, in altri casi ottimo, con le contrade, insomma, ci stiamo capendo molto, insomma, anche se, anche la mia preoccupazione era che inserendo qualche cambiamento ci potesse essere qualche difficoltà e invece ho visto che il mondo del paglio ha risposto molto bene, io di questo sono molto soddisfatto e ho avuto anche già modo di ringraziarli pubblicamente. Il pensiero godetevi questa festa è questo bellissimo gioco, gioco complicato, difficile, da organizzare, da mantenere, eccetera, eccetera, insomma, sappiamo tutti qual è talmente ricco che ovviamente tutti capiscono che richiede grandi energie perché venga realizzato, non ci viene regalato nulla, è merito delle contrade, è merito dell'amministrazione, del comune di Legnano, con gli uffici che mette a disposizione, è merito di tanti, di tanti, insomma, che questa manifestazione riesca sempre bene e tutti gli anni magari arricchita di qualche, di qualcosa in più, di qualche particolare in più. Ecco, io chiedo a tutti, chiedo a tutti che il paglio deve mantenersi, deve mantenersi nel gioco, nel divertimento e in questo contesto dico che tutti devono rispettare le regole, perché tutti hanno delle grandi responsabilità. La responsabilità è di tutte le componenti del paglio, se la riuscita è buona, se il gioco viene giocato con lealtà, è un gran bellissimo gioco, altrimenti, come nello sport, quando si bara, anche una bella gara viene svilita. Quando ero giovane, ho assistito qualche volta alla corsa, la vivo sempre con una grande apprezzione, perché ho sempre paura, ho sempre paura che possa in qualche modo capitare qualcosa che rovini la grande festa. Ecco, la vivo sempre con questo, un po' con questa tensione e credo che derivi un po' dalla mia responsabilità, dal grande insegnamento che mi ha dato mio papà, del rispetto e dall'amore nei confronti, certo, delle persone, ma anche degli animali. E quindi la vivo sempre un po' con questa tensione. Poi so che c'è mio fratello, che è un veterinario molto attento, molto, molto attento, e quindi mi rassereno, come so che poi alla fine ci sono sempre grandi professionalità in gioco, anche se questo, ribadisco, è un gioco. Nel mio cuore in questo momento batte solo, come sindaco batte solo l'interesse della mia città, l'interesse generale della mia città e di questo territorio, che è un territorio veramente molto ricco di cultura, di tradizione, di economia, di lavoro, di imprenditorialità. Per quanto riguarda il Supremo Magistrato non ho cuore, nel senso che sono al di sopra delle parti e voglio essere al di sopra delle parti. Come sono a servizio di tutti i cittadini, di qualsiasi colore e anche razza, perché abbiamo anche tante persone di colore che abitano in mezzo a noi, è una società oramai di fatto multietnica, la nostra, quindi anche per il Paglio io sono al di sopra delle parti, non ci sono colori. Una città molto ricca, ricca sotto il profilo, come dicevo anche prima, credo, sotto il profilo culturale, sotto il profilo sociale, ancora devo dire anche sotto il profilo economico, ci sono ancora degli imprenditori che credono nella loro attività, che vogliono investire nella loro attività. Nella mia funzione sindaco, non dico spesso, ma molte volte vengo invitato da imprenditori che mi dicono, sindaco avrei piacere che lei conoscesse la mia realtà. Io già per professione, per la mia attività, il mio lavoro era quello appunto di avere contatti con tutte le aziende di tutti i tipi, per cui già ritengo di essere un buon conoscitore della realtà economica o produttiva, non solo di Legnano ma anche dell'Alto Milanese. Quindi è una città accogliente, ancora accogliente, bella, con problemi, non bisogna scondere che ci sono dei problemi, ma io credo anche una città molto solidale, molto solidale, non dobbiamo guardare i picchi di manifestazioni, di proteste che sono molte volte solo strumentali e non riescono a risolvere i problemi. Mi riferisco alla sicurezza, al problema che abbiamo dei Rom, a tante altre problematiche, che non dico che non esistano, esistono, ci sono e noi li combattiamo giorno dopo giorno i problemi della sicurezza con i collaboratori e in particolare con la polizia locale. Ecco, però è una città ancora molto solidale, una città che esprime un volontariato veramente diffuso e che lavora magari di nascosto, ma che ha un grande, un impatto importantissimo per la tenuta del sistema sociale, dell'equilibrio sociale della nostra città, è importantissimo. Io a queste persone sono veramente molto, molto, molto grato. Come dico sempre, la politica non può bastare a se stessa. Se un politico pensa di risolvere i propri problemi da solo, se dal mio punto di vista non ha capito nulla, io ho bisogno di tutti, lo dico veramente col cuore in mano, ho bisogno di tutti, indipendentemente dal colore politico, tutte le persone di buona volontà che vogliono veramente dare una mano nella risoluzione ai problemi sono ben accolte. La mia porta è sempre aperta, come dico. Buon paio a tutti. Buon paio a tutti.